Ciao a tutti! Oggi voglio mostrarvi delle operazioni numeriche. Si tratta di addizioni fatte con le asti numeriche. Sono infatti delle operazioni concrete in cui il bambino potrà effettivamente sommare due quantità per rendersi conto del risultato finale. Vediamo insieme. Questa attività consiste nel vedere in quanti modi possiamo formare il numero 10. Iniziamo a presentare l'attività soltanto a livello concreto. Chiediamo al bambino di trovare l'astra che unita alla precedente avrà la stessa lunghezza dell'astra superiore. Solo quando ci accorgiamo che il bambino è pronto iniziamo ad aggiungere la parte astratta e iniziamo anche a contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Come abbiamo formato il 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 più 1, 2. 10 uguale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Procediamo così finché non finiamo i nostri cartellini.